...completare la piegata, poi passate sotto le tribune pronti al lancio per questa prima della giornata. Macchina che prende velocità, stacca in questo momento partiti con 7 colori jet che prova a portarsi al comando della corsa, rimane però vicino alla battistrada il 4 di Sissi ZS, poi c'è Selica, Cocis e Steve FKS, cavalli che vanno ad affrontare la piegata. 7 colori jet, prende vantaggio sul 4 di Sissi ZS, il passaggio ai 200, primi 200 in 14 e 3. 7 colori jet quindi che si incarica di fare l'andatura, alle sue spalle Sissi ZS, più indietro, più staccato c'è Selica, Cocis e poi il numero 1 di Steve FKS. 36, passaggio ai 400 metri, cavalli che vanno ad affrontare la piegata, si è andata a comporre una perfetta fila indiana che vede davanti a tutti il numero 3 di 7 colori jet. Adesso muove all'esterno Steve FKS che prova a portarsi al ridosso di Selica, Cocis e 47, 1 per i 600 di corsa. Cavalli che transitano sotto le tribune, sempre davanti a tutti 7 colori jet, con il completamento adesso del mezzo miglio. 1, 0, 2, 4 il passaggio al mezzo miglio, davanti a tutti c'è 7 colori jet, poi Sissi ZS, adesso il 5 di Steve FKS, poi Selica, Cocis, indietro staccato c'è Semola, GK. Cavalli al passaggio al chilometro, 1, 18 netto. Adesso il 5 di Steve FKS prova ad andare all'attacco di Sissi ZS, i due sono in perfetta pariglia alle spalle del battistrada, con il numero 3 di 7 colori jet che continua a dettare il ritmo della corsa a Pisa Cane in sulchi, 400 dall'epilogo. Cavalli che vanno ad affrontare la piegata. Numero 2, Semola GK, squalificato. E finisce, finisce al tabellone Semola GK, corsa finita per il cavallo pilotato da Loris Ferro, siamo a meno di 200 dall'epilogo della corsa, 7 colori jet, si presenta all'imbocco della retta d'arrivo in vantaggio, era anche il favorito di questa corsa e si presenta in retta, in tutta tranquillità può andare a chiudere, vediamo lo sprint per la seconda piazza, c'è Steve FKS che ha ragione del numero 4 di Sissi ZS, quindi 7 colori jet, Steve FKS, Sissi ZS, questo è l'arrivo della prima qui al Breda di Padova.